Sale di tono l'avvertenza ai Ritali dopo che i commissari liquidatori della società aerea hanno confermato ai sindacati la volontà della compagnia di non voler pagare la cassa integrazione ai 1.500 dipendenti oltre la scadenza del 30 giugno. Una comunicazione che ha suscitato la dura reazione dei sindacati che chiedono alle regioni Sardegna e Lombardia di intervenire per salvaguardare i diritti dei lavoratori. Una prima risposta alle pretese dell'azienda ci sarà il 14 aprile a Roma con una manifestazione di protesta del comparto del trasporto aereo che vede in crisi non solo ai Ritali ma anche all'Italia, da mesi nel limbo tra ipotesi di rilancio e problemi di gestione quotidiana. La paura dei sindacati è che l'Italia voglia mettere i lavoratori e il governo davanti ad una situazione quasi irreversibile. I commissari hanno reso noto infatti che entro l'estate gli ultimi due Boeing 737 Max di proprietà della compagnia verranno messi fuori dalla flotta e sarà formalmente chiesta la cancellazione del certificato di operatore aereo. I sindacati e i lavoratori sono sul piede di guerra perché non solo si trovano senza una prospettiva di ripresa dell'attività operativa a breve e medio termine ma dal 1 luglio rischiano anche di rimanere senza reddito. Da qui la richiesta che alle trattative con i commissari liquidatori prendano parte anche i rappresentanti di Sardegna e Lombardia che rischiano di perdere 1.500 posti di lavoro negli aeroporti di Orbia e Malpensa in un settore strategico per l'economia dei due territori. Ma si chiede anche un intervento diretto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.